Voi sapete che ieri abbiamo messo nero su bianco un documento parlamentare in cui chiedevamo al governo di impegnarsi, ma ovviamente parlavamo al governo ma parlavamo anche alle forze parlamentari, quindi a tutti i partiti, abbiamo detto Draghi se tu devi andare in Europa ci vai con un mandato, il nostro mandato è quello di dire basta alla vaccinazione degli under 12, quindi fermare questa vaccinazione e dall'altra parte dare una parola definitiva sulla impossibilità a mettere l'obbligatorietà vaccinale, cioè non vogliamo in nessun modo che qualcuno si alzi la mattina e dica obbligatorietà vaccinale, quindi gli impegni che gli davamo era fermare la vaccinazione sui bambini e fermare qualsiasi tentazione di mettere per tutti l'obbligatorietà vaccinale, quindi era chiaro quel documento, era molto chiaro, sapete in Senato in quanti hanno votato sì alla nostra cosa che mette nero su bianco degli impegni radicali, stop, stop alla vaccinazione dei minori e stop a qualsiasi tentazione di mettere l'obbligatorietà vaccinale in nove, in nove, quindi tutti gli altri hanno fatto orecchie da mercante, poi vanno in televisione e dicono no ma noi sullo, no c'era un impegno e non l'hanno votato.